che devo dire ditemi voi che devo dire nelle ultime tre partite un punto con tre squadre che erano o in zona retrocessione o a rilosso della zona retrocessione diciamo che il punto fatto con lo Spezia per me è come se fosse un punto preso dall'abilità di Sturl quindi per me sono tre sconfitte lo dico chiaramente infatti se andate a guardare i video che ho fatto con lo Spezia era palesemente critico nonostante il pareggio e l'esaltazione di tanti e si vedeva già che c'era qualcosa che non andava in questa squadra atleticamente, tatticamente sulla fiducia si è persa proprio propria dei giocatori si è persa quell'inerzia che finché si era in casa potevamo dare la colpa a un Palermo casalingo che ormai ci aveva abituati a questo tipo di strane prestazioni se vai in trasferta a Genova con la Sampdoria è improvvisamente resusciti una squadra con mille problemi che comunque stava già migliorando per carità ma con mille problemi e tu riesci riesci a fare una partitaccia fatta di occasioni proprio così trovate un po' all'arrembaggio tutti in avanti come al solito sì, quella mezza occasione salvata sulla linea nel primo tempo poi il colpo di testa di Lucioni nel secondo poi Mancuso ma se dopo dopo il sette alla fine era tutti all'arrembaggio con Soleri Mancuso tutti gli attaccanti dentro io oggi non mi voglio soffermare sui singoli episodi per me la Sampdoria ha meritato di vincere questa partita noi dobbiamo seriamente preoccuparci di quale sarà il nostro immediato futuro perché siamo già scalati al quinto posto è vero che abbiamo una partita da recuperare ma diciamo che non siamo non c'è molta fiducia in questo momento io vedo una squadra che non sa quello che deve fare vedo di Francesco insegna giocare a centrocampo sempre essere lontanissimi dalla porta lontanissimi dalla porta Brunori che gioca a fare il trequartista e il falso nove e non si capisce chi è l'attaccante chi lo deve fare in questa squadra noi giochiamo senza regista senza l'attaccante perché fa il trequartista fa il falso nove io non riesco a capire che cosa vuol fare il Palermo cioè dobbiamo giocare senza punta perché noi giochiamo senza punta ormai da tantissime partite quando entra Mancuso la differenza si vede perché Mancuso comunque la sua presenza lì dentro la fa sentire Soleri anche che è un paio di occasioni l'ho avuta anche lui però non è in questa partita che lo dico lo dico da un po' si deve capire cosa si sta chiedendo a questi giocatori perché non è possibile che Di Francesco Insigne Henderson Brunori siano tutti involuti sportivamente si siano diventati delle pippe improvvisamente gente che poi fra l'altro viene dalla A a parte di Henderson di Francesco Insigne che ha vinto un campionato l'anno scorso ha fatto otto gol ragazzi ma di che stiamo parlando non è possibile che questa gente venga a Palermo e diventi magicamente gente che non sa più incalciare un pallone fare un passaggio fare un dribbling ma di chi stiamo parlando quando una campagna acquisti così onerosa fallisce nel suo intento soprattutto lì davanti perché comunque Luciani e Cercaroni finora avevano il loro contributo però vuol dire che o hai sbagliato a scegliere l'allenatore o l'allenatore non sa valorizzare questi giocatori perché diciamo che qui c'è un problema proprio tattico qualcuno mi dice cambiamo modulo ma se cambi modulo è un fallimento di progetto il progetto fallisce perché tu hai iniziato il campionato per il 4-3-3 hai fatto la campagna acquisti per il 4-3-3 oggi giocavamo con il 4-2-3-1 ci sta ma gli esterni devono essere attaccanti la squadra deve essere più cioè gli esterni devono essere attaccanti non posso vedere di Francesco e Anderson a centrocampo sulla linea di centrocampo o così esterni di Francesco e insigni così bassi e così larghi mai vicino la porta mai a fare gli attaccanti mancuso che non gioca mai titolare cioè ragazzi io oggi non voglio analizzare i singoli episodi perché non c'è niente da analizzare sì la stampa ha meritato quello è il succo io quello che voglio analizzare sono i risultati è la tattica dal punto di vista tattico è il fatto che non ci siamo c'è voluto un tempo per iniziare a correre c'è voluto un tempo per iniziare a pressare e un palermo che ai primi 20 minuti è stato inesistente cioè io io come faccio a valutare ora siamo scesi dal quinto posto ragazzi siamo scesi dal quinto posto adesso i limiti i limiti cominciano ad essere pericolosi visto che quelle dietro continuano a vincere ora ora noi abbiamo detto finché Corini vince va tutto bene finché Corini vince ha i risultati alla sua però oggi che Ricorini che andrà in conferenza a dire abbiamo i dati che ci dicono che abbiamo fatto un gran secondo tempo abbiamo i dati che ci dicono i dati io fra un poco divento anche volgare con questi dati Corini perché li hai tirati fuori anche con l'ecco li hai tirati fuori con l'ecco che abbiamo dominato la partita che stai giocando con l'ultima in classifica e tivanti anche di aver dominato la partita non essere riuscito a tirare dentro la porta una volta preso due contropiedi cioè ragazzi ma di quali dati stai parlando basta adesso sono due anni che ci stiamo tirando dietro queste discussioni io vorrei capire quando è il momento in cui la squadra di Serie A una squadra che vuole andare in Serie A può fare un punto in tre partite con due sconfitti con due squadre che sono in zona retrocessione cioè io questo voglio dire può succedere questo per una squadra che vuole andare in Serie A e ripeto un punto preso al 104esimo sulla punizione di Stulaz quindi per me paragonabili a tre sconfitte con tre sconfitte tu vuoi andare in Serie A io questo sto dicendo allora cosa dobbiamo aspettare io penso che se il Palermo non vinca le prossime due con Brescia e Cittarella Corini lo fai fuori perché sei già quinto quindi io penso che ormai la prossima le prossime due massimo potrebbero essere le ultime due partite di Corini con il Palermo perché ormai è chiaro che devi vincere la situazione la devi sbloccare non c'è più scuse e quindi adesso adesso sì ovvio che noi ti faremo per il Palermo e speriamo che le prossime due le vinceremo ma dall'altra parte con questo tipo di atteggiamento perché che è successo perché si è rotto il giocattolo cosa è successo perché io ragazzi sono molto scoraggiato con questa partita perché chiedo a voi di dirmi la vostra sui commenti veramente non sto nemmeno a analizzare la partita perché non c'è niente da analizzare io vedo Brunori che deve andare a crossare che deve andare a prendersi la palla a centrocampo sulla 3-4 cioè non abbiamo un attaccante io l'anno scorso dicevo voglio un attaccante forte fisicamente lì davanti alla Edogo alla Coda cazzo noi non siamo riusciti a prendere un attaccante che faccia l'attaccante lì davanti io ripeto Brunori finora lo ringrazierò sempre per quello che era dal Palermo ma è evidente che o è un problema tattico o comunque non puoi mettere Brunori a fare quel ruolo lì perché non hai un riferimento lì davanti cioè come fai ad andare in Serie A senza un riferimento in attacco forte che segna punta forte ci vuole un attaccante che vale in doppia cifra per una squadra che vuole andare in Serie A cioè ci sono mille problemi che potremmo analizzare Segre che comunque fa la sua partita ok Segre corre sempre Segre non vi puoi dire niente ma l'anno scorso abbiamo dovuto togliere il 4-3-3 perché ci stavano andando in Serie C siamo dovuti salvare abbiamo dovuto passare altre 5-2 quest'anno devi di nuovo togliere il 4-3-3 perché non va bene perché per cosa è evidentemente qualcosa si è sbagliato le colpe le trovino loro ma è ovvio che il primo a pagare di solito è sempre l'allegatore al netto di tutto oggi chi vai a prendere Inzaghi si è accasato Grosso si è accasato Andrea Zolli si è accasato io romani mi sfugge qualcuno aiutatemi a capire chi prendereste al posto di Corriere non so sono scoraggiato scusate ragazzi ditemi la vostra e niente il Palermo il Palermo ci perde e alla prossima mercoledì col Brescia vediamo va